almeno atterri in pia... cioè atterri... guarda, lascia a sinistra... ma non puoi andare a tornata? oooohhhahhhh ooohhhahahhahahahahahahah ooohhhahahahahah oooohhhhhh oooohhhahahahahah che bello città paura ci sono trovato l'area del muro è caduto in diretta ma è privato ah perfetto, un vero regista non è felice però farà vedere cosa esce il settore melanzo